Siamo live, ciao a tutti chimici e non, perché oggi Amo la Chimica si espande e va ad interessare anche altre discipline come l'astronomia, perché oggi inizia una nuova avventura, se vogliamo, con la rubrica che si chiama Martedì, alla scoperta del pianeta rosso, alla scoperta di Marte, in quanto febbraio è il mese di Marte per eccellenza, in quanto l'autostrada, se così possiamo definirla, tra la Terra e Marte è piuttosto trafficata. Ci sono ben tre sonde, una degli Emirati Arabi Uniti, una della Cina e anche forse la più conosciuta Perseverance degli Stati Uniti, che stanno arrivando proprio in questi giorni sul pianeta rosso. Sono una serie di appuntamenti organizzati tra la pagina Facebook e Instagram, Amo la Chimica, e l'osservatorio astronomico della regione autonoma Valle d'Aosta, in questo tentativo appunto di cercare di parlare il più possibile, scoprire il più possibile il pianeta rosso. Questa sera siamo qui con Andrea Bernagozzi, che è un ricercatore proprio presso l'osservatorio astronomico della Valle d'Aosta. Ciao Andrea! Ciao a tutti e a tutti, chimici, fisici, terrestri, marziani, tutti! Tutti! È una trasmissione inclusiva questa! Assolutamente! E proprio appunto in questa trasmissione inclusiva, oggi andiamo a parlare di quelle che saranno proprio più in dettaglio gli obiettivi scientifici e le missioni del pianeta rosso, che proprio arriveranno, come dicevo prima, a brevissimo su Marte. Ma Andrea, tu lavori in un posto meraviglioso! Sì, io, come si dice, lavoro all'osservatorio astronomico della regione autonoma Valle d'Aosta, un nome lungo per quello che è un osservatorio astronomico regionale della più piccola regione d'Italia. In queste slide si vede una panoramica del nostro osservatorio astronomico, con spiegati sotto queste tettoie mobili, quelle due virgole, quei due apostrofi bianchi, sono tettoie che possono scorrere su dei binari e permettono ai nostri telescopi di guardare il cielo, poi c'è anche la cupola del telescopio principale, e noi in questo osservatorio ci occupiamo di tante attività, quando è possibile, per i motivi che sappiamo bene al momento non è così, però accogliamo scolaresche che vogliono venire in vista da noi per imparare qualcosa di astronomia guardando il cielo, accogliamo anche il pubblico e ci occupiamo soprattutto di ricerca scientifica, perché noi possiamo appunto fare queste attività con le scuole e con il pubblico in presenza o come in questo caso online, perché appunto ci occupiamo anche noi nel nostro piccolo di ricerca scientifica e di quello appunto che tutto ciò comporta quando si studia il cosmo, un lavoro che facciamo grazie al sostegno anche di tutti quei vari enti che vedete, di cui vedete appunto i loghi, gli scudettini elencati sotto. È un luogo fra l'altro che non è strano al nostro, diciamo, ospite della serata, François. Infatti stavo per dirlo che avete ospitato anche me. Esattamente, tanto tempo fa, non tanto, ma un po' di tempo fa. E cosa hai fatto da noi tu? Avevo fatto la tesina di maturità, quindi proprio sull'effetto sera nei diversi pianeti del sistema solare, in particolare Marte e Venere. E proprio per tornare a... Confrontati con la Terra, confrontati con la Terra. Confrontato ovviamente con la Terra. Con l'effetto sera sulla Terra, quindi le caratteristiche delle diverse atmosfere planetari. E proprio per calarci, no? Nell'atmosfera marziana, qual è la storia delle esplorazioni terrestri di Marte? Quindi da dove nasce questo interesse? Quali sono state le missioni che hanno interessato e hanno studiato il pianeta rosso? Io sono un appassionato di fantascienza. E una delle opere più importanti della fantascienza è la famosa Guerra dei Mondi, no? Dello scrittore britannico Herbert George Wells. La prima di tutta una serie di opere in cui si immagina l'invasione della Terra da parte dei marziani. Ma in realtà, se andiamo a vedere come sono andate le cose nella storia, se c'è qualcuno che sta invadendo Marte, sono i terrestri. Grazie, non per fortuna, a astronavi che vogliono distruggere il pianeta, ma a sonde spaziali. Qui vediamo due cose in questa nostra proiezione, in questa slide. Da una parte vediamo quel riquadro dove ci sono queste quattro parole magiche. Flyby, orbiter, lander e rover. Sono i quattro tipi di sonda spaziale che sono stati elaborati per lo studio di Marte nel corso appunto dei decenni. Perché decenni? Perché se si va a vedere l'altra infografica prodotta dall'Agenzia Spaziale Europea, si vede il pianeta Marte circondato da tutta una serie di bandierine. Sono le bandierine delle varie nazioni che, a partire dagli anni 60 del XX secolo, quindi 60 anni fa circa, hanno mandato sonde a studiare il pianeta. Quando si manda una sonda, una sonda può appunto fare quattro cose. Può fare il cosiddetto flyby. Cioè una sonda che passa vicino al pianeta, non si ferma nei pressi del pianeta, lo guarda mentre passa, fotografa, tipo paparazzo. Fa la foto dal finestrino, diciamo. Fa la foto dal finestrino, esattamente. Va al panorama. E le prime missioni sono state appunto i flyby. Poi dopo, stiamo parlando tra l'altro dell'inizio dell'era spaziale, perché ricordiamoci appunto che le prime missioni sono gli anni 60, ma l'era spaziale nasce il 4 ottobre 1957 con il lancio del primo satellite artificiale in orbita attorno alla Terra, lo Sputnik 1. Quando poi le tecnologie si sono evolute, ecco che c'è stata la possibilità di prendere queste sonde e farle orbitare non solo intorno alla Terra, ma anche intorno, per esempio, al pianeta Marte. E allora, invece di fare il flyby, si fa l'orbiter. Cioè, la nostra sonda, quando arriva vicino al pianeta, ecco che lo studia stando nello spazio, dall'alto. E così può fare, per esempio, fotografie della superficie del pianeta, delle sue caratteristiche e così via. Negli anni 70 abbiamo avuto i primi Lander, i primi Lander importanti e di successo. Lander, come suggerisce la parola, vuol dire che in inglese, a terra, arriva sulla Terra, sul terreno, non sulla Terra e il pianeta con la T maiuscola, ma il terreno, il suolo, in questo caso il suolo marziano. E ovviamente da lì si possono fare delle analisi, raccogliendo campioni e mettendoli dentro dei laboratori a bordo della sonda. Ma, 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 questo Lander, dove arriva, sta. Nel senso che, appunto, le sue gambette, se è arrivato sano e salvo, può funzionare. A partire dagli anni 90, del XX secolo, abbiamo avuto i rover, invece, che sono sonde automatiche, se muoventi. Sono tutti robot, sia che fanno il flyby, sia che orbitino, sia che atterrino, sia che atterrino e si possono muovere grazie alle ruote. Stiamo parlando tutti di robot, non stiamo parlando di navicelle con a bordo astronauti. Questo, per ora, è fantascienza ancora e lo rimarrà ancora per un po', secondo me. Però, ecco che questi sono i diversi tipi di sonda che si sono alternati nel corso dei cenni. Se vediamo l'infografica che si vede nello schermo verso destra, si vede che alcune di queste freccine rivolte verso il pianeta rosso sono tratteggiate. Più o meno, diciamo che dagli anni 60 a oggi, una cinquantina di sonde sono state lanciate verso il pianeta Marte e più o meno la metà di queste freccine sono tratteggiate. Cosa vuol dire? Che per qualche motivo la missione non ha avuto successo. O la sonda non è entrata in orbita, o doveva entrare in orbita, invece ha fatto un flyby e poi se n'è andata, o si è proprio rotta o persa nello spazio, o è precipitata sul pianeta e si è sfracellata. Insomma, tutta una serie di combinazioni. È un caso interessante. In media possiamo dire che una sonda su due, una sonda su tre, che è stata lanciata verso Marte, non ha avuto fortuna nell'arrivo. Con questo, ovviamente, essendo tutti scienziati, non voglio presiudicare nulla sull'arrivo prossimo. Adesso ne arrivano tre, vediamo se... Vediamo chi sta per vivere. Uno su due, uno su tre, va bene. Questo è appunto lo scenario storico di Marte. Se invece vogliamo così andare allo scenario attuale del pianeta Marte, in questo sempre disegno dell'Agenzia Spazio Europea, vediamo la situazione attuale. Cioè, le sonde attualmente funzionanti attive sul pianeta rosso. Come vediamo, ci sono diversi orbiter, quelli attorno al pianeta, e poi dentro al pianeta vediamo due sonde. Insight, in alto, che è una sorta di geologo barra sismologo barra meteorologo marziano, quindi una stazione meteorologica e sismologica che è arrivata sulla superficie di Marte, ma è un lander, quindi non si muove, è un lander della NASA, la Genesia Spaziale degli Stati Uniti, e l'altro è il famoso rover Curiosity, che invece è un rover. Cioè, si muove, anzi, si sta muovendo anche adesso che noi stiamo parlando, insomma, non so esattamente, però sono le sonde funzionanti, quindi vediamo tutti questi orbiter e poi le due sonde sul suolo marziano. E a queste sonde, fra poco, sempre se tutto va bene, facendo tutti i debiti scongiuri, perché siamo tutti scienziati, chimici, fisici, quello che volete voi, si dovrebbero aggiungere anche le tre che sono in arrivo adesso. Che sono appunto quelle degli Stati Uniti, della Cina, degli Emirati Arabi e degli Emirati Arabi Uniti. Esatto. Che cosa vanno a cercare? Quali sono le domande, anche scientifiche, che si sono posti gli scienziati, appunto, tra cui, immagino, chimici, fisici? Assolutamente. Sì, sì, perché, come diceva il nostro storico direttore, mancato qualche anno fa, il professor Enzo Bertolini, e come dice, il nostro attuale direttore, Jean-Marc Distille, la scienza è una. È ovvio che ci sono varie discipline che ti permettono di affrontare un problema da un particolare punto di vista. Certo. Ma poi è solo mettendo insieme tutte le tessere che si crea il mosaico completo, corretto. E proprio quindi adesso, se andiamo a vedere le varie sonde che sono in arrivo, le tre caravelle, come le ha chiamate un amico del nostro osservatorio astronomico, e anche, e lo ringrazio per questo, del sottoscritto della mia famiglia, il giornalista scientifico Fabio Pagan. Ecco, queste tre sonde alla scoperta di Marte, del nuovo mondo Marte, sono un po' come tre caravelle. Prima, François, tu hai detto l'autostrada è trafficata. in questa arrotta di questo oceano spaziale. Oceano spaziale, sì, è più poetico effettivamente. E non solo è più poetico, ma addirittura pensa che è un'espressione che usò Keplero nel 1600. Ah, ok. Immaginando che un giorno l'essere umano avrebbe potuto costruire navi che avrebbero potuto solcare gli oceani dello spazio, come ai suoi tempi le navi solcavano gli oceani terrestri. E non lo diceva così a vanvera, ma perché aveva notato, penso un po', non c'entra tanto col discorso, ma visto che ci siamo entrati faccio questa piccola chiosa, Keplero aveva notato, non solo lui, però nel 1600 era stato registrato il fatto che le comete quando passavano vicino al Sole sviluppavano una coda sempre in direzione opposta a quella della nostra stella. e da questo senza avere nessuna sonda spaziale a disposizione ma semplicemente ragionando ne ha dedotto che doveva esserci un qualche tipo di emissione che sgorgava dal Sole e che produceva queste code delle comete soffiando via il materiale della cometa in direzione opposta appunto a quella del Sole. Allora lo dice se c'è questo vento nello spazio allora questo vento un giorno potrà anche gonfiare le vele delle navi spaziali incredibile 1600 chapeau al signor Keplero e allora sono spinte da questo vento arrivano eccole qua sì in realtà sono spinte da razzi che li hanno lanciati nello spazio quindi il tipo di populsione da questo punto di vista è diverso da questo di Keplero che è ancora immaginifico al momento anche se ci sono degli studi per tentare di sfruttare questo fenomeno con le cosette vele solari però appunto vediamo velocemente le tre caravelle come appunto si chiama il collega Fabio Pagan anche perché vedendole possiamo apprezzare quali siano i problemi scientifici all'ordine del giorno terrestre e anche marziano e comprendere come mai appunto da 60 anni stiamo mandando così tante sonde verso questo pianeta e non altrettanti sono state mandate verso altri pianeti per esempio Venere uno dice ma gli altri sono più lontani Venere può essere ancora più vicino del pianeta Marte anche se sono altre difficoltà di altro genere però il pianeta Marte insomma ha avuto tutta questa grande attenzione perché la prima sonda che vediamo le vediamo in ordine di arrivo come dovrebbe arrivare in questo febbraio marziano il 9 di febbraio è previsto l'arrivo nei pressi del pianeta Marte e poi in parte la manovra di inserimenti in orbita di al-amal una sonda eccezionale perché è una sonda degli Emirati Arabi Uniti la prima sonda di un paese arabo lanciata verso il pianeta Marte quindi una grandissima impresa tecnologica per un paese che se non ricordo male grazie proprio con questa sonda festeggia i 50 anni della sua fondazione la mia età anzi 51 per la precisione però questo è importantissimo è importantissimo perché fa vedere come al giorno d'oggi le imprese spaziali siano alla portata anche di paesi che prima in questo campo non erano proprio considerati protagonisti certo stiamo parlando degli Emirati Arabi risorse non mancano lo sappiamo bene ecco però una cosa è avere risorse una cosa è avere la tecnologia questa è una missione interessante qua la vediamo in fase di costruzione anche perché così possiamo paragonare vedendo appunto le persone al lavoro bardate per non contaminare i circuiti e tutti i vari pezzi della sonda con la sporcizia terrestre diciamo così ecco questa sonda qui la stiamo vedendo appunto nel laboratorio e qui adesso la vedremo invece in un disegno di fantasia immaginandola in orbita attorno al pianeta Marte è una sonda al-amal che vuol dire speranza da una parte un po' la speranza speriamo che vada tutto bene dato che si tratta della prima sonda degli Emirati Arabi dall'altra attenzione ufficialmente il nome è stato dato perché questa sonda vuole ispirare le giovani generazioni degli Emirati Arabi Uniti ma del mondo in generale appunto a appassionarsi alla ricerca e alla tecnologia e infatti legata a questa sonda c'è anche tutta una serie di progetti di divulgazione fatti anche in arabo ovviamente anzi soprattutto in arabo e poi tradotti anche in inglese questa sonda è un orbiter quindi non va sul sul pianeta rosso se tutto funziona si inserisce in orbita e studierà il pianeta dall'alto e in particolare è una sonda che vuole studiare grazie ai suoi strumenti fondamentalmente una fotocamera che fa foto e due osservazioni negli ultravioletti e nell'infrarosso due sistemi di osservazione nell'infrarosso e nell'ultravioletto vuole studiare il clima marziano e i vari fenomeni atmosferici climatici del pianeta dalle famose tempeste di sabbia che possono avvolgere appunto il pianeta rosso alle caratteristiche precise dell'atmosfera marziana e questo ci porta anche a dire che questa sonda è stata realizzata dagli Emirati Arabi ma in collaborazione con istituti statunitensi non la NASA e attenzione stiamo parlando di università e centri di ricerca proprio perché si voleva individuare un problema scientifico che riguardava Marte da approfondire che non fosse già stato approfondito a sufficienza precedentemente dalle sonde prime insomma per non fare qualcosa che era stato già fatto e una caratterizzazione precisa dei fenomeni di tutta l'atmosfera marziana è stata individuata come il problema che questa sonda studierà e poi metterà i dati a disposizione e quindi mi viene scusate se ti intorno ma mi viene in mente anche una cosa che potrebbe essere legata anche alle future missioni umane su Marte quindi anche per sottolineare la sua rilevanza cioè quello che mi viene da immaginare è studiando la meteorologia le tempeste di sabbia come appunto tu dicevi magari aiuterà anche a realizzare dei modelli previsionali più affidabili anche per appunto e magari proteggere gli stessi umani che saranno sul pianeta rosso non lo so è una roba che mi è venuta in prospettiva di sicuro perché appunto vuole studiare i fenomeni atmosferici e climatici perché appunto il pianeta Marte ha caratteristiche tali che ci fa da farci pensare che nel corso del tempo e non dico ieri o l'altro ieri ma i miliardi di anni intercorsi da quando il sistema solare si è formato e con esso la Terra e con esso anche Marte 4 miliardi e mezzo di anni fa fino ad arrivare ai giorni nostri perché il pianeta si è drasticamente cambiato sulla base di fenomeni naturali nel corso delle ere geologiche marziane quindi ere areologiche da Ares il pianeta Marte invece che Geo il pianeta Terra ecco rifacendosi alle divinità greche dell'Olimpo il pianeta ha drasticamente cambiato il suo aspetto in passato adesso è un pianeta freddo e secco con temperature medie di 50 gradi sotto zero e una sottile atmosfera rarefatta di anidride carbonica soprattutto circa 96% di anidride carbonica questo che stiamo vedendo è un disegno del pianeta Marte ma è ispirato a immagini reali e il fatto che dall'orbita tu possa vedere la superficie del pianeta in maniera così dettagliata fa capire quanto l'atmosfera del pianeta sia sottile e trasparente tutti noi siamo abituati a vedere le prese del tempo dove si vede la Terra con tutte le nuvole e così via allora da questo punto di vista questo ci fa capire che le condizioni sono proprio diverse però si pensa che magari in passato l'atmosfera di Marte fosse più spessa molto più spessa e ci sono infatti dei fenomeni che ancora oggi permettono di vedere che lentamente i strati superiori dell'atmosfera marziana sfuggono e la sonda studierà anche questo quindi vari aspetti il presente del pianeta Marte il suo passato e dal punto di vista per esempio di una possibile colonizzazione umana anche il suo futuro ok quella successiva sì scusami quindi questa appunto è la prima caravella che dovrebbe arrivare il 9 di febbraio ok volevi dire scusami no niente appunto era per ormai mi hai appassionato questo racconto quindi non vedo anche di quella successiva quella cinese appunto e adesso arriviamo a quella che dovrebbe arrivare il 10 di febbraio e qui faccio un annuncio ufficiale sulla pagina di Wikipedia in inglese della sonda Tianwen 1 ho messo io alla data di arrivo del 10 febbraio è una grande responsabilità ok sì sì no perché bisogna dire una cosa se per esempio questa sonda è stata ampiamente pubblicizzata e chi l'ha realizzata da anni appunto ha lavorato in collaborazione con altri istituti e ha fatto tutta una serie di interventi proprio per spiegare questa grande missione al Amal la Cina da questo punto di vista non è altrettanto aperta almeno nei confronti del mondo occidentale all'interno della Repubblica Popolare Cinese è diverso per quanto riguarda la condivisione delle informazioni o la pubblicizzazione appunto delle attività qui vedete la sonda che è in alto dentro il suo recinto e ancora una volta vedete tutte le persone che hanno lavorato nella classica tuta per non contaminare nelle camere bianche i materiali elettronici e i circuiti e così via che formano in caratteri occidentali le lettere T W è il numero 1 perché questa sonda si chiama Tianwen 1 io in cinese non lo so è inutile che mi ci metta a farlo ecco mi han detto che si potrebbe tradurre come in quesiti al cielo questo Tianwen cioè vengono fatte questa sonda aspira a fare domande appunto al cielo in maniera da poter ottenere delle risposte è una missione della quale non si sa molto da un punto di vista divulgativo bisogna però dire che i responsabili ne hanno parlato con appunto andando in profondità in certi dettagli su articoli scientifici importanti pubblicati sulle riviste come Nature Nature Astronomy dove proprio hanno descritto la missione ecco però diciamo che non è social non è che ti dice ogni secondo cosa sta succedendo e così via tant'è vero che la data 10 febbraio appunto l'ho potuta aggiungere io pochi giorni fa quando un'agenzia stampa cinese che scrive anche in inglese per quello l'ho potuto leggere l'ha annunciato siccome avevo appena letto la pagina di Wikipedia e ho visto che non c'era la data sono tornato indietro e l'ho cambiata sono molto contento di questo e e questa è la matrioska no? è una super matrioska perché questa è una sonda tre in uno addirittura perché è una sonda che ha un orbiter qui stiamo sempre vedendo un disegno a un orbiter questo orbiter che appunto dovrebbe arrivare in prossimità del pianeta Marte il 10 di febbraio cioè il giorno dopo di Al-Amal e cominciare le manovre di inserimento in orbita questo orbiter a un certo punto dopo mesi che osserve il pianeta dall'orbita marziana individuerà dei luoghi dove lanciare un lander quindi una sonda che arriva sulla superficie che atterra che vediamo in questo disegno in basso a destra questo lander a sua volta ha a bordo un rover che uscirà dal lander scenderà dal lander sperando ovviamente che tutto vada bene e con i suoi pannelli fotovoltaici inizierà a esplorare la zona dove appunto sono atterrati sul pianeta Marte questa sonda matrioska anche se appunto matrioska ci porta a parlare dei russi qua siamo sui cinesi insomma come vedete la politica terrestre finisce anche nello spazio non si capisce più nulla ecco è un progetto assolutamente ambizioso la Cina è la prima sonda lanciata dall'agenzia spaziale cinese verso il pianeta Marte e quindi il primo successo è se arriva dato che le tecnologie per realizzare questa sonda sono state realizzate in gran parte nell'ambito proprio del sistema spaziale cinese ecco questo non vuol dire che sia una come si dice la Cina non collabere a livello internazionale con altre agenzie spaziali se andiamo a vedere proprio i loghi i simboli messi sulla cima della punta del raggio che contiene qui prima di partire appunto questo sistema di tre sonde una a cavallo dell'altra possiamo notare oltre al grande delta azzurro dell'agenzia spaziale cinese che a molti ricorda appunto la bandiera della federazione unita dei pianeti di Star Trek anche i simboli dell'agenzia spaziale europea dell'agenzia spaziale francese di quella austriaca e di quella argentina che hanno contribuito dal punto di vista per esempio della realizzazione di strumenti a bordo di queste di queste sonde quindi il primo obiettivo è arrivare e che tutto funzioni una volta poi che si è arrivati e tutto funziona ecco che più o meno queste sonde spaziali cinesi fanno lavori che sono già stati fatti dalle sonde precedenti però appunto è una nave scuola prima di tutto cioè bisogna capire come funziona questo sistema di esplorazione del pianeta Marte e i cinesi lo vogliono capire in autonomia essendo qua nella regione autonoma Valle d'Aosta siamo solidali da questo punto di vista l'altra cosa interessante di una missione di questo genere è che per esempio ricordiamoci che la Cina pochi mesi fa è riuscita nell'impresa di lanciare un rover sul lato nascosto della luna impresa mai realizzata prima quindi era la prima volta in assoluto ed è stata la prima volta per tutti quindi non per i cinesi ma per tutti e ha funzionato e ha fatto bellissime scoperte bellissime immagini è stato come si dice è stato un grande successo questa questa missione dicevo dal punto di vista scientifico studierà il campo magnetico marziano l'atmosfera marziana realizzerà una nuova mappa geologica di Marte i lander e il rover se arriveranno sani e salvi sulla superficie faranno anche loro misure di carattere chimico geologico fisico e anche astrobiologico cosa vuol dire questo termine lo spieghiamo dopo ecco tutti i primi tentativi e quindi il primo obiettivo è imparare come si fa poi dopo se si capisce si potrà passare al passaggio successivo ai commenti per quanto riguarda Tianwen 1 no 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 si può andare avanti a quella che ci ha credo più stressato per imparare come si pronuncia ancora ancora di più di Tianwen 1 perseverance 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 l'inglese che il cinese esatto no allora qua entriamo in quelli che mi insegnano e ho chiamato i famosi falsi amici che tu pensi che vogliono dire una cosa e ne vogliono invece ne vogliono dire un'altra e qua c'è anche la questione appunto della pronuncia a noi in italiano perseveranza si dice perseveranza quindi ci viene da dire perseverance magari pensando che funzioni così invece perseverance che non vuol dire solo perseveranza ma vuol dire anche proprio tenacia insomma la voglia di andare avanti ed è appunto la missione chiaramente più evoluta di tutte quelle che abbiamo visto finora perché abbiamo visto due prime volte la prima sonda degli emirati arabi uniti e la prima sonda dell'agenzia spaziale cinese dell'agenzia spaziale cinese verso Marte la nasa l'agenzia spaziale degli stati uniti ha una lunga tradizione di sonde spaziali lanciate verso Marte di tutti i tipi qua vediamo appunto il nostro rover ancora una volta in laboratorio per far vedere le sue dimensioni ecco in fondo vediamo quella cupola bianca che è parte della sonda al cui interno è stato messo il rover e poi lanciato con razzo per andare verso Marte non l'abbiamo detto prima tutte le sonde di cui abbiamo detto sono state lanciate a luglio del 2020 in vari momenti di luglio più o meno tra la metà e la fine di luglio questo perché la distanza tra la Terra e Marte era la minore possibile diciamo tra le più tra le più basse i lanci di sonde verso il pianeta Marte vale la pena farli nel momento in cui nel gioco delle reciproche orbite intorno al Sole i due planeti sono più o meno appaiati ovviamente non si manda una sonda verso Marte quando Marte è dall'altra parte rispetto al Sole perché ovviamente è la parte il momento in cui Marte si trova più lontano dalla Terra e quindi è molto più complesso il viaggio invece quando il pianeta Marte orbitando intorno al Sole si accosta nello spazio alla Terra allora ecco che invece di essere magari dico numeri tondi per semplificare a 100 milioni di chilometri di distanza magari a 55 milioni di chilometri di distanza che sono sempre milioni di chilometri però che è la metà di prima e questo è una contingenza favorevole che appunto c'è stata tra questa estate quest'autunno e quindi ecco perché c'è stato tutta questa serie di lanci così spettacolari e spettacolare proprio è Perseverance qui appunto lo vediamo montato è spettacolare e soprattutto come è noto sarà il suo momento di atterraggio previsto per il 18 febbraio se non erro il compleanno di Roberto Baggio mi pare di ricordare da tifoso di calcio una cosa di questo genere auguri auguri e auguri anche a Perseverance e auguri anche a Perseverance perché qua vediamo in una infografica in un disegno quelli che sono i cosiddetti famosi sette minuti di terrore cosa vuol dire questo? perché la sonda deve arrivare è una sonda complessa e diciamo che è un pick up è un bel camioncino che arriva su Marte dotato di tutta una serie di strumenti molto raffinati e delicati e per arrivare su Marte sta viaggiando alla velocità indicativa di circa 20.000 km all'ora quando arriva dalle parti di Marte il 18 febbraio sta andando a 20.000 km all'ora sette minuti dopo deve essere fermo sul pianeta atterrato quindi bisogna passare in sette minuti da 20.000 km all'ora a sano e salvo sulla superficie integro fermo questo ovviamente fa sì che ci siano tutta una serie di manovre che la sonda deve fare per poter frenare e non solo entrare in orbita sul pianeta Marte non deve entrare in orbita deve proprio arrivare sulla superficie e allora questa sonda è protetta all'inizio una capsula che entrerà a forte velocità dentro l'atmosfera marziana che sarà rarefatta ma è sempre un'atmosfera anche se appunto è molto più rarefatta meno densa di quella terrestre fa un ostacolo che frena inizia a frenare la nostra la nostra sonda per attrito questa attività di frenamento la riscalda anche a 1.000 2.000 gradi la sonda esterna è costruita in maniera da resistere a queste temperature all'interno il nostro rover è sano e salvo protetto questo frenamento è molto efficace ma sei entrato a 20.000 km all'ora e magari adesso si trovi sempre cifre stonde per semplificare dentro l'atmosfera marziana ma a 1.000 km all'ora non è che sta andando molto piano e allora ecco che come si vede in questa infografica dopo questa prima fase di frenamento si apre un grandissimo paracadute molto più grande di quelle che noi siamo abituati a vedere sulla Terra perché l'atmosfera di Marte è molto più aria fatta e quindi bisogna frenare prendendo insomma facendosi aiuto con paracadute molto più grande anche questo però non è sufficiente per quello che è la manovra ancora più incredibile cioè portare sano e salvo il nostro rover sulla superficie si realizza una volta che man mano la velocità è diminuita con quello che viene chiamato la gru spaziale è una gru tratta di razzi che frenano la velocità retrorazzi che frenano la velocità e questa questa gru ha una piattaforma alla quale proprio con una corda è legata il nostro rover e il nostro rover viene fatto calare lentamente al suolo mentre la piattaforma ondeggia tenuta su da questi razzi e quando è arrivato al suolo ecco che viene abbandonato e il nostro rover è arrivato sulla superficie nel frattempo tutti i vari pezzi usati prima la capsula protettiva il paracadute e adesso anche la piattaforma dell'agro spaziale si allontanano dal rover sono stati persi per strada la piattaforma proprio andrà via per impedire che cada addosso al rover sì sarebbe il colmo ecco e anche che contamini la zona dove cade e tutto questo capiterà appunto in questi circa sette minuti in automatico deve capitare in automatico cioè la sonda funziona da sola opportunamente programmata con una serie di sensori che monitorano la situazione intorno ad essa e anche il suolo verso il quale si sta avvicinando in maniera da evitare per esempio se c'è proprio il picco a forma di punta messo lì apposta per infilzare il nostro rover ecco grazie ai sistemi di intelligenza artificiale che sono stati addestrati con sofisticati programmi informatici in maniera da gestire la situazione lì perché Marte appunto si troverà a milioni di chilometri di distanza e un segnale radio inviato dalla Terra per dire accenditi adesso impiega diversi minuti a giungere su Marte e se la sonda dovesse avere problemi e mandare un segnale SS cosa devo fare giro a destra o giro a sinistra questi segnali arrivano sulla Terra dopo diversi minuti nel frattempo il problema potrebbe avere portato alla distruzione della sonda stessa alla distruzione della sonda stessa quindi sono 7 minuti di terrore perché quella sera del 18 febbraio attorno alle 10 di sera ora italiana fondamentalmente tutte le persone interessate a questa sonda sono lì ad aspettare aspettare che arrivi un segnale emesso in automatico dalla sonda che dica ok sono il rover sono tutto intero sono arrivato sulla superficie noi quello che l'umanità poteva fare l'ha già fatto posso solo essere nei panni di quel dei tecnici della NASA i 7 minuti più lunghi della loro vita probabilmente assolutamente e infatti sono chiamati i 7 minuti di terrore abbiamo un precedente perché questo sistema è già stato provato con la sonda Curiosity il rover precedente ed è stato un clamoroso successo quindi diciamo diciamolo sperando che ti vado tutto bene anche questa volta ricordiamo non tanto per menare Iella perché siamo scienziati e poi sono anche del Cicap a Valle d'Aosta insomma tante cose però stiamo parlando sempre di lanciare degli oggetti costruiti dall'umanità che vanno a milioni di chilometri di stanza a fare quel preciso lavoro atterrando in quella precisa zona del pianeta non è uno scherzo non è un non sono giocattoli e quindi non stiamo parlando di qualcosa che è così proprio facile da fare e dove atterra? questo è un questo è un disegno appunto del nostro rover immaginato sulla superficie vedete che vicino al nostro rover ci sono c'è anche quella specie di strano oggetto proprio lì davanti che è una nuova tecnologia particolare di cui fra un minuto diremo qualcosa guardandolo appunto continuando il nostro intervento dove atterra atterra in questa zona opla che è successo ho sbagliato eccolo eccolo qua perfetto sì scusate mi ho schiacciato le cose sbagliate voi state vedendo bene sì ecco questa è una fotografia vi ho fatto vedere tanti disegni in cui si immaginano la sonda su Marte beh ci credono sono ancora arrivate quindi si può solo immaginare questa è una vera foto della zona dove è previsto l'arrivo della sonda Perseverance è un grande cratere che si trova sul pianeta Marte detto Jesero o Gesero a seconda di come si pronuncia è una parola di origine slava cioè in diverse lingue slave balcaniche che vuol dire lago o insomma è associato a uno specchio d'acqua perché perché guardate questa immagine che è una fotografia vera ripresa dalla sonda europea Mars Express uno degli orbiter tuttora funzionanti intorno al pianeta rosso stiamo guardando una porzione del cratere alla vostra destra vedete una grande pianura e si capisce anche un contorno rotondo e quindi potete immaginare un grandissimo cratere che è a circa 300 chilometri di diametro più o meno la cosa interessante è che sulla parte sinistra di questa sonda di questa foto chiedo scusa si vede una struttura tortuosa che arriva sul bordo del cratere e qui si sviluppa aprendosi come se fosse una specie di foglia con le nervature e qui viene proprio da pensare che stiamo vedendo il letto di un fiume di un fiume dove adesso no ma forse in passato scorreva un liquido che ha scavato appunto questo solco un liquido che arrivando alle pendici del cratere ha aperto un delta e forse riempìo il cratere che era un lago un lago di che cosa probabilmente di acqua allo stato liquido noi sappiamo che oggi l'acqua esiste sul pianeta Marte e anche nel sottosuolo marziano in abbondanza ma nelle condizioni attuali del pianeta Marte pressione circa al suolo circa un millesimo di quella terrestre temperatura media 50 gradi sotto zero con picchi di 120 gradi sotto zero beh in queste condizioni non può essere acqua allo stato liquido ma in passato bene questa stiamo vedendo una immagine ma ce ne sono centinaia migliaia di immagini simili riprese in tutta la superficie del pianeta Marte che hanno fatto pensare agli studiosi che in passato Marte fosse un pianeta caldo e umido non freddo e secco con un'atmosfera forse più spessa e con acqua che poteva scorrere sulla superficie allo stato liquido e se c'era una temperatura superiore se c'era acqua allo stato liquido beh queste sono due condizioni che qui sulla terra sono indispensabili per favorire lo sviluppo della vita come noi la conosciamo e qui proprio nel mezzo del delta è previsto l'arrivo del sistema complesso che abbiamo descritto prima di Perseverance e non è un caso perché questa sonda è una sonda particolare se prima abbiamo avuto sonde che erano robot dedicati all'esplorazione a mappare poi a studiare dal punto di vista geologico geochimico il pianeta Marte questa sonda è una sonda biologa anzi astrobiologa perché andrà a studiare proprio eventuali tracce fossili di vita che magari in passato è esistita sulla superficie del pianeta Marte non i marziani con i dischi volanti i raggi laser la guerra dei mondi no ma magari i microscopici esseri unicellulari che in quelle condizioni di miliardi di anni fa forse hanno trovato sul pianeta Marte la possibilità di svilupparsi e quindi una missione assolutamente eccezionale resa ancora più eccezionale dal fatto che a cavallo di questo rover c'è anche un elicottero un elicottero marziano molto piccolo qualcosa che potremmo tenere in mano un drone fondamentalmente ma un drone speciale che vuole essere una tecnologia dimostrativa per vedere se si può volare nell'atmosfera del pianeta Marte che ricordo è più rarefatta della nostra e questo permetterebbe di poter esplorare stando sul pianeta Marte anche zone che magari con un rover possono essere difficili da raggiungere per esempio discese molto ripide o pendii molto scoscesi e così via bene il drone si stacca e va a vedere che cosa c'è e prende i dati magari anche in futuro a terra fa delle piccole delle piccole ricerche e così via e quindi è una missione veramente eccezionale anche il rover cinese avrà dei piccoli esperimenti di carattere biologico per cercare tracce di composti organici sulla superficie del pianeta Marte ma ovviamente Perseverance è lo strumento da questo punto di vista più avanzato l'elicotterino anche ha un nome interessante altro nome che può indurre così in errore in italiano è ingenuity che sembra ingenuità ma in realtà vuol dire ingegno perché ovviamente per realizzare macchine di questo genere di ingegno ce ne vuole e tanto mi chiedevo se appunto questo prototipo se vogliamo è soltanto un prototipo per dimostrare che si possa volare su Marte oppure contiene in sé anche degli strumenti immagino macchine fotografiche o cose di questo tipo che tu sappia è fondamentalmente contiene dei piccoli strumenti ma fondamentalmente è un prototipo cioè l'idea è funziona o non funziona 1-0 ed è proprio questo il suo obiettivo ovviamente è una cosa spettacolare se funziona ci regalerà tutta una nuova maniera di esplorare un mondo perché dopo dopo avere scusa dopo che abbiamo avuto le sonde che facevano i flyby gli orbiti e le lander rover avremo anche gli elicopteri gli elicoteri sarebbe una nuova maniera c'è un bellissimo progetto di realizzare uno strumento analogo per certi versi analogo a questo per esplorare il titano satellite di Saturno ma ne parleremo fra qualche anno il progetto in questo momento dal punto di vista dello studio è in corso poi vedremo appunto se riuscirà ad avere fortuna tra l'altro per quanto riguarda Perseverance ci sono anche degli aspetti proprio di carattere chimico che chiamano in causa non tanto il sottoscritto che è fisico ma anche qua sopra da noi sì no infatti una cosa che mi aveva colpito molto di Perseverance era legata al sistema che si chiama Moxie perché io uno dei miei film preferiti è The Martian e lì appunto c'è il sistema che produce ossigeno che viene proprio detto da Maddemon io sono vivo fino a quando questo sistema continua a produrre l'ossigeno che mi serve e a bordo di Perseverance c'è appunto un sistema che come dicevo si chiama Moxie che è in grado di produrre in loco in situ cioè su Marte ossigeno a partire dall'anidride carbonica che è tanto abbondante appunto nell'atmosfera marziana l'obiettivo di questo di questo sistema non è tanto quello di produrre grandi quantità di ossigeno ma innanzitutto dimostrare se funziona e poi io scusami ho caricato credo che tu se vuoi possa condividere eccolo qua benissimo la pagina dedicata appunto a Moxie ma tanto più quello di cercare di capire quelle che sono le condizioni nelle quali questo sistema può funzionare meglio perché poi sempre in un'ottica di colonizzazione umana o comunque di arrivo di umani su Marte l'ossigeno sarà fondamentale portarselo dietro dalla terra naturalmente è impossibile la quantità sarebbe tantissima sarebbe esagerata quindi attraverso questo esperimento fatto in diverse condizioni meteorologiche presenza di tempeste di sabbia assenza di tempeste di sabbia sarà possibile capire appunto se si tratta di una strategia fattibile quindi se puoi cercare di mandare in future emissioni impianti più grandi mi ero un attimo incuriosito su qual era la quantità di ossigeno che è in grado di produrre sarà acceso e spento in diversi momenti ed è circa appunto di 10 grammi all'ora che sono sufficienti per far respirare un cagnolino quindi capiamo bene quanto la quantità la dimensione di questo sistema debba essere grande per sostenere la vita su Marte ma non solo perché poi l'ossigeno verrebbe anche utilizzato come combustibile per far ripartire la sonda con gli astronauti terrestri per farli tornare auspicabilmente sulla sulla terra e quindi appunto è anche bello vedere come ci siano degli esperimenti estremamente all'avanguardia anche dal punto di vista chimico che l'esplorazione marziana sta portando avanti si tratta se vogliamo proprio buttarla lì di alberi sintetici che catturano la CO2 dall'atmosfera per dare ossigeno ecco tra l'altro quindi questo potrebbe essere utilizzato anche sulla terra come possibile strumento di contenimento dell'anidride carbonica in eccesso nell'atmosfera terrestre questa è una domanda oserei dire solar punk per chi è appassionato di fantascienza sa che c'è questo genere che si chiama solar punk che è un genere appunto che da qualche anno è venuto alla ribalta che si occupa proprio di stimolare idee positive dal punto di vista della fantascienza per però affrontare i problemi reali del mondo e siccome ovviamente tu sei chimico ma lavori in un ambito che si collega all'aspetto climatico climatologico scusatemi se uso magari termini sbagliati magari ci potrebbe pensi tu in prospettiva che possa esserci un albero sintetico di questo genere su Marte potrebbe essere utile anche sulla Terra beh ci sono io non sono diciamo probabilmente un esperto di questo che è un ambito forse un po' più ingegneristico però la fotosintesi artificiale è uno dei settori di ricerca abbastanza abbastanza attivi e secondo me però la cosa importante di questo di questo sistema MOXI è risponde anche a un'altra domanda cioè la domanda classica che si fa ma perché andiamo cioè cosa serve andare su Marte serve anche a sviluppare tecnologie che poi servono anche sulla Terra cioè la cattura dell'energia carbonica in eccesso è prioritaria anche sulla Terra quindi è un po' come cogliere più piccioni con una fava se vogliamo assolutamente e qua abbiamo il piccione marziano per eccellenza cioè il nostro ingenuiti e visto che stiamo andando sicuramente verso la conclusione tu adesso dimmi se dobbiamo continuare se ci fermiamo qui come preferisci se ci sono domande insomma quello che vuoi naturalmente se avete domande scrivetene nei commenti e noi tu più che altro saremo in grado di rispondere però adesso non voglio essere autoreferenziale ricordando quando appunto tu eri giovane studente liceale da noi hai fatto appunto questa tesina per la maturità dedicata alla comparazione fra l'effetto serra come funziona o meglio funziona allo stesso modo ma che effetti ha prodotto a causa delle diverse caratteristiche confrontando terra marte venere beh questo è interessantissimo a mio parere perché gli aspetti del clima terrestre sono stati studiati in grande profondità anche proprio perché a un certo punto grazie alle missioni spaziali abbiamo avuto la possibilità di avere dati da altri mondi e sono stati visti quindi in azione processi che magari di cui ignoravamo l'esistenza perché sulla terra non ci sono le condizioni per svolgersi o viceversa come? o anche viceversa nel senso che sulla terra magari ci sono dei processi che fanno sì che appunto magari in condizioni pensavo appunto al 250 milioni di anni fa che c'è stato delle mega eruzioni vulcaniche in Siberia che hanno causato l'estinzione del 75% della fauna terrestre tipo il 95% della fauna marina e poi però al tempo stesso evidentemente sulla terra c'era un qualcosa di diverso che invece appunto evidentemente non c'era su Marte o su altri pianeti che ha permesso comunque di superare questa criticità chiamiamola così per arrivare poi al giorno d'oggi a temperature perfettamente compatibili con la vita nostra banalmente quindi penso che sia molto interessante anche questo confronto per capire quello che agli altri mancava ma quello che magari appunto a noi quei meccanismi magari che ci sfuggono che hanno permesso lo sviluppo della vita sulla terra come noi la conosciamo oggi e lo studio insisto di Marte di Venere in particolare negli anni 60-70 è stato fondamentale perché ha permesso di fare questa climatologia comparata a livello planetario che ha fatto capire appunto meglio il clima terrestre sappiamo benissimo quanto al momento sia determinante all'ordine del giorno insomma è qualcosa di cronaca determinante capire come comportarci per quanto riguarda le trasformazioni in atto per quanto del clima nostro del clima terrestre innescato da processi come si dice di origine antropica cioè dovuti all'attività dell'essere umano e proprio il potere fare confronti ci ha aiutato a capire meglio capendo Marte capendo Venere abbiamo potuto guardare con occhi nuovi la terra certo questo è stato fondamentale e non è un caso che molti esperti di clima lavorino anche in programmi spaziali non è assolutamente un caso di clima terrestre qui abbiamo una domanda di Carlo che ci chiede appunto dopo questo mese di missioni quali sono i prossimi passi certi quando sono previste nuove finestre di viaggio e qui infatti abbiamo parlato di queste grandi tre ma effettivamente ne manca ne manca una e manca la missione europea eh sì questo parto un po' da lontano per parlare della missione europea ma intanto ringrazio Carlo scusa se ti do del tu per la domanda ma in questo nostro viaggio verso Marte ricordiamo anche perché in questo mese di febbraio l'11 di febbraio celebriamo la giornata internazionale delle donne delle ragazze nella scienza beh mi piace ricordare adesso tre donne lei è Sara Alamiri ed è la responsabile scientifica della missione Alamal degli Emirati Arabi Uniti nonché l'analogo del ministro della ricerca degli Emirati Arabi Uniti del ministro della ricerca italiano per come è organizzato il governo degli Emirati Arabi e nonché la responsabile del consiglio nazionale di ricerca degli Emirati Arabi insomma è un pezzo grosso è un studioso di computer science un ingegnere informatico potremmo tradurre in italiano anche se è una cosa un po' diversa ed è la responsabile scientifica della missione di Alamal quindi è molto importante vedere per tutte le questioni che ben conosciamo per quanto riguarda la difficoltà nella parità di opportunità e di diritti fra i generi è molto importante dal mio punto di vista anche appunto vedere al comando di una missione di questo genere una donna in una posizione apicale come dicono quelli che sanno parlare e altra immagine che vi propongo è quella di Mimi Ong spero di pronunciare bene il suo nome l'ingegnere statunitense che ha realizzato il drone Ingenuity di cui vedete un modello alle sue spalle fra l'altro lei è statunitense ma la sua famiglia è di origine birmana quindi anche qui siamo sulla cronaca e per rispondere alla domanda appunto di Carlo vi parlo di una terza donna una foto in bianco e nero una foto un po' vecchia lei è Rosalind Franklin ed è una studiosa britannica che si occupa di biologia è morta purtroppo giovane appunto diverso tempo fa cosa c'entra con Marte una scienziata vissuta tanto tempo fa beh la vediamo lavorare dal microscopio e Rosalind Franklin è una figura importante perché i suoi studi sono stati fondamentali per imbeccare i famosi Watson e Crick James Watson e Francis Crick che hanno sviluppato la loro ipotesi sulla struttura doppia elica del DNA è una storia controversa della quale devo dire la verità io non sono un esperto quindi non entro nei particolari ma è certo che lei ha fatto degli studi fondamentali senza i quali probabilmente non si sarebbe potuta ricostruire la struttura doppia elica della molecola fondamentale per la vita come noi la conosciamo sulla Terra perché? perché c'entra col prossimo passo il prossimo passo di cui ci chiedeva Carlo ha una data ben precisa il 2022 quando di nuovo il pianeta Marte e la Terra si troveranno favorevolmente appaiati non come questa estate un po' peggio ma non in maniera drammatica e partirà la sonda europea sul pianeta Marte la sonda ExoMars 2022 battezzata Rosalind Franklin perché? perché anche questo rover perché state vedendo è un rover è una sonda dedicata allo studio astrobiologico del pianeta Marte lo studio appunto delle possibilità che il pianeta Marte in passato abbia ospitato la vita una vita semplice e che possano esserci tracce di questa vita passata sul nostro pianeta Rosso questa sonda in realtà qui la vedete in un'immagine di fantasia in realtà una volta era ExoMars 2020 doveva partire anch'essa invece delle tre caravelle avremmo avuto i quattro moschettieri non è partita purtroppo nel 2020 per motivi vari sicuramente c'è stata la pandemia che ha complicato tutta una serie di raffinamenti importanti di questa sonda e uno di questi raffinamenti è che il sistema di atterraggio che come abbiamo visto nel caso di Perseverance è qualcosa di molto complesso beh nel caso appunto dell'esperienza dell'Agenzia Spaziale Europea al momento non è altrettanto raffinato e allora come si dice non c'è stata la possibilità erano previste collaborazioni proprio con altre agenzie spaziali come per esempio quella statunitense per comprendere meglio come favorire l'atterraggio di questa sonda perché rimanesse integra non c'è stata la possibilità quest'anno e il lancio è stato rimandato al 2022 all'incirca c'è questa periodicità ogni due anni quando i due pianeti nelle rispettive orbite intorno al Sole sono appaiono più vicino quindi questa è sicuramente il prossimo passo del nostro viaggio robotico verso il pianeta Marte che addirittura ci introduce a quello che è il grandissimo progetto congiunto di Agenzia Spaziale Europea e Agenzia Spaziale Statunitense e NASA c'è quella quello di fare una missione per portare campioni di rocce marziane nei laboratori terrestri in quella che si chiama missione per appunto portare un sample cioè un campione sulla Terra e Perseverance è la prima tappa di questo che se tutto va bene potrebbe essere un progetto decennale in cui una sonda statunitense in questo caso Perseverance va sul pianeta rosso raccoglierà dei campioni che in questo disegno vedete e rappresentati come questi di provette colorate di rosso sono carote marziane carote non di ghiaccio ma di suolo marziano diciamo così che con una chioccia il nostro Perseverance man mano che raccoglie cura in un particolare scomparto al suo interno ebbene è previsto poi il successivo lancio di una sonda dell'agenzia spaziale in collaborazione tra l'agenzia spaziale europea e l'agenzia spaziale statunitense che porterà un lander su questo pianeta Marte questo lander sarà raggiunto da Perseverance si scambieranno i campioni e con un razzo dal pianeta Marte questo razzo con il suo come si dice carico prezioso arriverà sul incontrerà una sonda dell'agenzia spaziale europea che poi riporterà i campioni sulla terra insomma se eravamo stupiti da tutta la tecnologia che era necessaria per far atterrare Perseverance su Marte qua mi sembra veramente che tutto questo avverrà in maniera automatica tutto questo in diverse fasi in maniera automatica molte di queste fasi sono tutto in progettazione perché è un progetto in lungo periodo però Perseverance è già stato costruito in maniera da potersi interfacciare raccogliere i campioni conservarli appunto come la chioccia e poi distribuirli magari in questi anni ci saranno sviluppi tecnologici ulteriori e quindi lo svolgimento potrebbe cambiare ma l'idea è questa perché questo e qui torniamo di nuovo all'ambito che riguarda la chimica del nostro ospite Frank perché la possibilità di analizzare i campioni con la versatilità dell'occhio del chimico esperto del geologo del biologo eccetera eccetera avendo campioni sotto mano di Marte sulla Terra aumenta tantissimo le potenzialità di un'indagine di questo tipo io posso aver costruito la sonda più bella del mondo ma la devo programmare e quella sonda saprà fare quelle dieci cose e se quando arrivo vedo quella bellissimo campione e dico ah poi dovrei fare quella cosa lì ma quella è l'undicesima esatto ti mangi le mani e aspetti e appunto aspetti che i campioni di Marte arrivino sulla Terra abbiamo ancora diverse domande e io direi se sei d'accordo di andare attraverso appunto cercando di rispondere perché sono delle domande almeno io confido confido in te la prima è molto interessante ed è quella di Alessia che dice quello che è successo a Marte potrebbe essere il destino della Terra vai la risposta allora la risposta è dato che c'è un bel condizionale potrebbe mi sento di rispondere sì potrebbe in qualche modo prima o poi sarà perché il nostro pianeta è sicuramente destinato a un certo punto a diventare un deserto privo per esempio di acqua e lo stato liquido all'incirca fra circa un miliardo di anni se abbiamo compreso come funziona il sole il suo irraggiamento sarà diventato tale che tutta l'acqua liquida sulla Terra sarà evaporata le condizioni però sono diverse se ci limitiamo all'aspetto esteriore assomiglierà una Terra un po' a Marte un deserto pieno di polvere potrebbe però i motivi per cui ha raggiunto questo stato potrebbero essere molto diversi diversi e poi Gloria ci chiede due cose la prima ci fai complimenti ti fai complimenti per la conferenza e chiede che tipo di immagini verranno effettuate immagini con lunghezza d'onda UV e IR qual è lo scopo e perché si sono utilizzati questi range spettrali grazie Gloria perché studiano fenomeni diversi e l'infrarosso in particolare serve per studiare gli strati bassi dell'atmosfera marziana e anche i propri strati a contatto con la superficie del nostro pianeta rosso invece gli ultravioletti serve per studiare un fenomeno che è il depauperamento degli stati superiori dell'atmosfera marziana l'atmosfera marziana è fatta di molecole per esempio CO2 tanto per dirvi una famosa le molecole che sono nella parte più alta dell'atmosfera sono esposti al bombardamento da parte di raggi ultravioletti che arrivano dal sole e di altre radiazioni che arrivano dallo spazio questi raggi compiscono la nostra molecola e me la dividono negli atomi quindi abbiamo un atomo di carbonio e due di ossigeno e a questo punto questa molecola così suddivisa può appunto perdersi nello spazio e lentamente e inesorabilmente in questo modo l'atmosfera marziana viene erosa anche questo è un fenomeno che ci riporta la domanda precedente sul futuro della Terra anche questo è un fenomeno che avverrà man mano è già in corso ma non è nulla di preoccupante perché l'atmosfera della Terra è molto più abbondante rispetto a quella del pianeta Marte quindi ultravioletti e infrarossi ci permettono di studiare due fenomeni due momenti diversi dell'atmosfera marziana per essere un po' rozzi l'infrarosso ci fa vedere quello che capita in basso e l'ultrivoletto quello che capita è in alto e l'ultrivoletto ci permette appunto di studiare questa erosione degli strati esterni e l'infrarosso invece l'interazione per esempio con fenomeni al suolo come le tempeste di sabbia e altri fenomeni come i cosiddetti Devil's Dust Dust Devil's scusa i piccoli vortici di sabbia e così via che sono tipici appunto dello scenario marziano anche questi interessanti in vista non solo di una futura esplorazione umana ma anche robotica ricordiamoci che appunto Opportunity uno dei due rover precedenti rispetto a Perseverance e Curiosity ha smesso di funzionare per tanti motivi dato che è rimasto anni sulla superficie del pianeta a funzionare ma quando è stato preso una gigantesca tempesta di sabbia che ha completamente coperto i suoi pannelli fotovoltaici aveva già tutta una serie di diciamo così ferite che si stava portando dietro un pezzo che non funzionava di qui un pezzo che non funzionava per legittima usura nelle condizioni estreme del pianeta Marte ecco però quando è arrivata questa tempesta di sabbia in cui è rimasto immerso senza la luce del sole si è proprio spento e non si è più riacceso questo fenomeno dell'erosione mi fa venire in mente un esperimento che ha fatto proprio la NASA alle Svalbard perché hanno lanciato dei razzi proprio da Daniel Olesund ero lì durante l'inverno durante l'inverno polare proprio per studiare il fenomeno sulla Terra legato all'interazione del vento solare con appunto gli atomi e le molecole dell'atmosfera dell'atmosfera terrestre quindi anche qui è sempre bello vedere queste analogie che ci sono quello che si studia sulla Terra e quello che si studia su Marte e Gloria fa anche una seconda domanda che è la stessa una domanda che c'eravamo ti avevo anche posto in qualche modo oggi prima della diretta e cioè se il grande tema della contaminazione terrestre degli altri corpi spaziali di Marte in questo caso ma anche magari della Luna cioè c'era un articolo tra l'altro del The Guardian che è uscito qualche giorno fa che proprio parlava di questo di questo tema ed è una cosa molto interessante perché siamo noi a portare delle forme di vita vegetale animale su Marte e se sì oppure stiamo facendo di tutto per evitarlo o è inevitabile in qualche modo? allora è un discorso bellissimo esiste proprio una branca particolare che si chiama Planetary Protection e la Planetary Protection in vari agenti spaziali ci sono uffici di Planetary Protection e questo termine che vuol dire protezione planetaria ha preso nel tempo una varietà di significati se prima all'inizio era la possibilità che per esempio dallo spazio potesse arrivare qualche contaminazione terrestre ed è il motivo per cui tutti si ricordano 50 anni fa gli astronauti delle missioni Apollo venivano messi in quarantena perché non si era sicuri che l'ambiente lunare fosse esterile e se c'è il batterio lunare il virus lunare loro tornano lo attaccano tutti sulla Terra insomma un scenario dei figli fantascienza siamo abbastanza abituati oggi ai scenari dei figli fantascienza i virus terrestri non abbiamo bisogno di andare a cercare quelli lunari quindi primo c'era questo problema ma nel corso del tempo si è compreso che le sonde spaziali se vanno a cercare vita altrove su Marte per esempio e non sono loro pulite sterilizzate decontaminate in maniera opportuna succede che magari un microscopico batterio che si rintanano nei pertugi negli anfratti più microscopici ebbene viene portato sul pianeta Marte un batterio è capace di adattarsi nel corso magari anche di varie generazioni una forma microscopica dico batterio per dire ma non sono un esperto quindi chiamiamola una forma di vita semplice proprio perché semplice si accontenta di poco e può trovare la nicchia in cui svilupparsi e se ne stiamo spendendo forse energie e risorse per avere un'indicazione sulla esistenza di eventuale vita marziana beh portare noi contaminare noi l'ambiente marziano involontariamente è qualcosa che ovviamente va evitato nei limiti del possibile dico dei limiti del possibile perché anche se vi ricordate tutti quei signori che abbiamo sempre visto con tutte le tute che ormai purtroppo poi si sono diventati sono diventati visibili anche al telegiornale ma per altri motivi proprio perché si deve tentare di tenere queste sonde il più possibile lontano da qualsiasi possibilità di essere involontariamente un traghetto per forme di vita terrestri che vanno su Marte altrimenti contaminiamo i nostri esperimenti e quindi quello che troviamo porta risultati privi di senso e potremmo anche tipo i conigli in Australia devastare l'ambiente ecologico marziano e esiste addirittura un partito verde del pianeta rosso se mi permettete di dire questa cosa di studiosi serissimi che dicono siccome non si può avere la certezza di questo non lanciamo le sonde perché c'è il rischio che contaminiamo in maniera senza più ritorno il pianeta Marte e quindi se ci sono forme di vita autoctone sempre stiamo parlando a livello microscopico potrebbero essere sterminate da questi invasori terrestri e in questo momento c'è una via di mezzo sono state individuate certe zone del pianeta Marte che sono state considerate i santuari tipo quelli delle balene cioè lì le sonde non possono atterrare sono ampie zone proprio perché sono quelle considerate per quello che capiamo noi con la maggiore probabilità di poter avere in passato magari sviluppato l'ambiente adatto alla vita che poi ci sia tutta la vita e tutto un altro discorso certo sì sì ma come probabilità e quindi devi trovare queste queste come si dice bisogna bilanciare tutte queste esigenze certo e una cosa poi però appunto si potrebbe discutere all'infinito è che comunque una sorta di cross contaminazione c'è cioè una sorta di continuo scambio di materiale tra la Terra e Marte c'è attraverso per esempio i meteoriti marziani che arrivano sulla nostra Terra o meteoriti terrestri che arrivano che arrivano su Marte però è sicuramente un tema che appunto leggendo questo articolo che è uscito probabilmente ieri dimostra quanto il tema della contaminazione terrestre diciamo voluto o cioè nel senso legato all'esplorazione umana di altri pianeti sia un tema particolarmente sentito è attuale se posso aggiungere velocemente una cosa su questo sulle nostre pagine social Facebook e Instagram del nostro osservatorio astronomico che invito tutte le persone che ci stanno seguendo appunto invito tutte le persone che stanno seguendo andare sul nostro sito e a trovare i collegamenti per chi è interessato a seguirci attraverso i vari canali social Facebook YouTube dove stiamo trasmettendo questo intervento Instagram Twitter e così via abbiamo fatto lo scorso alla fine del 2020 una rubrica curata da Fabio Nottebella un esperto di comunicazione appassionato di astronomia dedicata proprio al sistema solare e uno dei post più belli e originali che ha curato Fabio Nottebella che ringrazio per questa sua collaborazione con noi è proprio quello del possibile scambio di materiale per fenomeni naturali tra la Terra e Marte per esempio perché se su Marte c'è miliardi di anni fa c'era il batterio che stava sorgendo perché c'erano le condizioni adatte alla vita cade la cometa su Marte sappiamo appunto che c'erano crateri da impatto su Marte poi magari riempiti dalle acque come quello dove andrà Perseverance però sono stati formati da impatti beh questi hanno scagliato pezzi di Marte nello spazio con magari il batterio intrappolato dentro e può essere caduto sulla Terra c'è qualcuno che dice sapete perché abbiamo così tante difficoltà a capire come è nata la vita sulla Terra come si è sviluppata la vita sul nostro pianeta tante teorie ma non si è ancora ben compreso come è accaduto e qualcuno dice beh è semplice perché la vita non è nata sulla Terra è nata su Marte la cometa ha lanciato i meteoriti marziani verso la Terra sono salati sulla Terra e hanno trovato l'ambiente favorevole e quindi hanno prosperato però non riusciamo a trovare l'anello mancante dall'inorganico all'organico perché in realtà il fenomeno non è avvenuto sulla Terra ma è avvenuto su Marte è ipotesi ovviamente certo sì sì però però diciamo sono scientificamente fondate la realtà è che in questi ambiti si brancola nel buio ed è per questo che è importante studiare perché studiare ti apre quegli spiragli di luce su questi ambiti di frontiera dove al momento ancora non vedi bene e l'ultima domanda di Carlo che giustamente si chiede ma quindi quando si va su Marte poi chi resta su Marte deve restarci per due anni prima di poter tornare proprio per il discorso della distanza tra la Terra e Marte appunto beh io direi che possiamo fare la domanda chiedendo agli astronauti su Marte e come si vede appunto in queste immagini e questa è un'immagine degli astronauti attualmente su Marte proprio mentre noi stiamo parlando il piccolo particolare è che è un Marte finto è una missione di simulazione di una spedizione umana su Marte una di tante missioni che sono state fatte finora che si sta svolgendo in luoghi della Terra che per condizioni geologiche e climatiche possono ricordare per certi versi il pianeta Marte tranne in particolare che se il nostro astronauta simulante che vediamo quando l'immagine si toglie il casco può respirare per davvero quindi questo problema diciamo non c'è questa per esempio è un'immagine scattata sulle montagne e sui vulcani dell'isola a seconda di come si pronuncia se nella versione inglese o nella versione nativa per quello che insomma è il mio guagliano ok ed è qualcosa di molto interessante vedete vedete che appunto in queste missioni ne sono state fatte tante questo per esempio è un particolare tipo di missione questa simulazione di una missione analoga a quella di un'esplorazione spaziale beh come vedete c'è un'ampia base che ricorda proprio quella del Field de Martian tratto dal romanzo di Andy Weir romanzo di fantascienza e queste basi sono necessarie perché al momento questi tempi di cui prima parlava Carlo nella sua domanda sono tempi che è ragionevole prendere in considerazione questo mi porta a dire due considerazioni velocemente la prima il maggiore ostacolo di attualmente presente per un viaggio umano verso Marte non è solo un di carattere tecnologico perché se si impegna prima o poi il razzo che va su Marte lo si scostruisce uno Stato un'agenzia spaziale una collaborazione internazionale un ricco magnate non faccio nomi tanto per capire quello che volete voi però prima o poi qualcuno lo costruisce il fatto è che però questo viaggio può durare lungo e noi viaggiando nello spazio non siamo protetti dall'atmosfera terrestre dal campo magnetico terrestre da una serie di radiazioni nocive che sono letali per l'essere umano e se stai come gli astronauti di 50 anni fa nello spazio qualche giorno è un conto se stai in orbita terrestre bassa come gli astronauti della stazione spaziale internazionale è un conto ma se pensi di stare in mesi viaggiando nello spazio interplanetario fra la Terra e Marte e su Marte stesso che non ha un campo magnetico intenso come quello terrestre praticamente non ce l'ha è un'atmosfera molto meno densa molto meno spessa insomma non c'è uno scudo protettivo e la protezione da queste radiazioni è al momento proprio uno degli elementi più più come si diceva uno degli motivatori che impediscono questo tipo di viaggio e recentemente sono venuti fuori nuove proposte di nuove propulsioni che ridurrebbero magari anche di molto il viaggio dal punto di vista della durata nuovi sistemi di propulsioni c'è chi parla di riprendere la propulsione di carattere nucleare per questi razzi per avere una potenza che ci permette di viaggiare in meno tempo c'è chi parla invece di nuovi sistemi con campi magnetici invece di campi elettrici che accelerano delle particelle e danno una spinta particolare alla nave che emette queste particelle e tutto legato al fatto di ridurre il più possibile la durata di questi viaggi ed è questa la seconda cosa che volevo dire nel senso che sono proprio novità di questi giorni però stiamo sempre parlando di progetti sulla carta e poi anche se si riduce invece di durare un anno dura sei mesi ma sono sempre sei mesi nello spazio tre mesi nello spazio esposto a queste radiazioni quindi un sistema per proteggere gli astronauti ci deve essere siamo arrivati addirittura al punto che qualcuno ha ipotizzato missioni kamikaze che tu vai sapendo che non tornerai più volontari il che apre anche non solo aspetti caratteri fisico chimico spaziale astronautico ma etico e filosofico guardate dove ci porta il pianeta Marte e se mi permetti una marchetta su questo e poi chiudiamo per approfondire il discorso legato all'esplorazione proprio umana cioè su come effettivamente noi umani possiamo diventare marziani il 2 di marzo ci sarà Giulia Bassani ospite della rubrica appunto i martedì e con lei proprio parleremo di affronteremo in maniera più dettagliata più approfondita proprio le sfide quelle che sono le sfide tecnologiche che ci ancora ci separano da Marte questi sono i recapiti per restare in contatto i contatti del nostro osservatorio astronomico se qualcuno appunto è interessato a seguirci sui nostri social non è che abbiamo un ufficio di comunicazione con mille persone che lavorano non siamo influencer quando abbiamo qualcosa che riteniamo interessante da dire e abbiamo la possibilità di farlo se non stiamo a spalare la neve per esempio come ho fatto un pochino quest'oggi in osservatorio astronomico poco poco però e allora ecco che volentieri rispondiamo volentieri appunto vi informiamo di attività come per esempio questa questo ciclo dei Marte di Diamo la chimica un'idea di François Bourguet ci tengo a dirlo il nostro osservatorio è andato in scia partecipo appunto collabora a questa iniziativa e i temi che il sottoscritto ha accennato nel vano tentativo di restare in tre quarti d'ora come si era detto e credo che abbiamo sforato del doppio però i vari argomenti poi saranno affrontati nelle prossime tappe nelle prossime puntate di questi martedì dall'atmosfera marziana agli studi proprio dei fenomeni geologici chimici proprio dei composti presenti sulla superficie del pianeta Marte alla ricerca astrobiologica in una puntata dove di nuovo il nostro osservatorio astronomico sarà protagonista grazie al collega Paolo Calcidese e così via quindi restiamo in contatto attraverso questi social e anche attraverso appunto amo la chimica e io vi ringrazio è stata una diretta super interessante e grazie mille ancora Andrea per aver partecipato per averci guidato in questa scoperta di un mondo così lontano io vi do appuntamento quindi a martedì prossimo alle ore 21 con Sofia e con lei andremo alla scoperta di che fine ha fatto l'atmosfera marziana buonanotte buonanotte ciao marzano